Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, siamo qui, abbiamo Linella 24 a negozio a DB Games mi raccomando passateci, adesso entriamo dentro così vi faccio vedere il negozio, entriamo Ciao Massimo, adesso vi passo la parola a Massimo che vi spiegherà un po' i giorni e tutto quello che vanno qui e poi saliremo sopra nell'area tecnica, prego Massimo Innanzitutto grazie per esserci venuti a trovare, siamo molto dietro Vediamo di evidenza che abbiamo una vasta categoria di Jordi, partendo dai nuovi PlayStation 4, nuovi Xbox e il nuovo Nintendo Switch Ricaduttiamo il pro usato e diamo dei buoni sconti da utilizzare nel nostro negozio, su tutti i tipi di prodotti che siano Jordi, che siano Funko, che siano accessori Per il resto vi mando su da Francesco e vi mostri la vedere Adesso saliamo da Francesco, nel varia lente Per quel punto potete vedere i giorni a prezzi buoni, mi raccomando spiegate Prego Adesso lui spiegherà anche più qualcos'altro Buonasera 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 Buonasera